Commemorazione del 42esimo anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dallachiesa. In occasione del 42esimo anniversario dell'efferato omicidio del generale Carlo Alberto Dallachiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente della Polizia di Stato Domenico Russo, è prevista la cerimonia pubblica per ricordare il tragico evento. La commemorazione alla presenza delle massime autorità civili e militari cittadine organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa esiterà nella giornata di martedì 3 settembre con alle 19 la Santa Messa presso la chiesa di Santo Maso al Pantheon per iniziativa dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, officiata da Don Massimo di Natale.